Seppur sotto traccia sono in corso più interlocuzioni nell'area di centrodestra con la giunta zerata e le dimissioni anche degli assessori di riferimento dei gruppi più vicini al sindaco Lucio Greco, la priorità è cercare di chiudere in fretta una crisi che secondo diversi alleati dell'avvocato è stata aperta al buio. La deadline potrebbe essere il fine settimana quando si cercherà di tirare le somme per capire se ci siano effettivamente le condizioni per una diversa fissionomia politica della giunta da collocare nel centrodestra. Anche due giorni fa durante la lunga riunione che il primo cittadino ha avuto con i suoi alleati è emersa una certa sicurezza proprio da parte di Greco ha voluto fortemente azzerare per verificare se ci siano le fondamenta politiche per una ripresa che lo porti a fine mandato. Gli alleati però non hanno accolto di buon grado prova anesia che non c'è stato un sì ad un'uscita pubblica per sostenere il tentativo chieste invece dal primo cittadino. Di fatto Greco ha accolto la proposta messagli sul tavolo ad inizio settimana dagli esponenti della nuova DC e già caldeggiata dal leader del partito l'ex governatore Salvatore Cuffaro. Pare che i centristi a loro volta stiano parlando con diversi esponenti di area centrodestra. Non si tratta di un mandato esplorativo affidatogli dal sindaco ma di una verifica che i cuffariani vogliono compiere per non lasciare nulla di intentato. Il timore vero è che se la situazione precipitasse definitivamente con Greco senza giunte e maggioranza sostanzialmente costretto a dimettersi allora calerebbe una sorta di paralisi amministrativa ancora più grave vista l'attuale situazione dei conti del municipio in fase di riassetto e riequilibrio. Aspetti che gli alleati hanno più volte ricordato al sindaco anche durante la riunione di due giorni fa nessuno dei pro greco ha sostenuto la scelta di azzerare senza vere soluzioni alternative. Sono troppi capitoli amministrativi ancora in bilico che chiaramente potrebbero rimanere sospesi e passare in secondo piano qualora non ci fosse più un'aggiunta a quel punto con le relative dimissioni dell'avvocato. Nell'eventualità di un nulla di fatto con il centrodestra non è assolutamente scontato che Greco possa ritornare sui propri passi incassando un nuovo sì degli alleati della prima ora. Soprattutto l'area civica avrebbe preferito soluzioni diverse che consentissero di lavorare sulle priorità sui progetti e sui finanziamenti. Le dimissioni chieste da Greco sono state percepite come uno strapponetto ad un rapporto di fiducia politico che nonostante alti e bassi aveva comunque retto facendo da argine alle tante falle aperte in questi anni. I civici di una buona idea, gli autonomisti ma anche il gruppo di un'altra Gela, quello che si rifà proprio al sindaco e gli indipendenti Luigi Diddio e Salvatore Incardona non avevano mai fatto mancare il supporto anche in aula consigliare. Nel corso della riunione hanno ribadito l'intenzione di andare avanti per evitare la stasi dell'azzeramento. Il sindaco invece ha voluto staccare momentaneamente la spina anche se potrebbe essere il capitolo finale del rapporto politico almeno con alcuni degli arcobaleno di tre anni fa.